100.000 euro, questo il finanziamento ottenuto dal comune di Ribera da parte della regione siciliana per portare avanti e realizzare il progetto denominato Alicos II, iniziativa mirata alla salvaguardia del mar Mediterraneo, realizzata anche lo scorso anno dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Ruvolo. Finanziato nell'ambito della nuova legge salvamare, questo progetto prevede la realizzazione di una barriera mangiaplastica alla foce del fiume Platani, in modo tale da evitare che giunga plastica in mare proveniente dall'entroterra. Alicos II, ovviamente, è la prosecuzione di Alicos, con le collaborazioni che sono state confermate tra Comune di Ribera, Associazione Marevivo Sicilia e Ditta Castalia, sinergie importante per la buona riuscita e la buona prosecuzione delle attività poste in essere. Ieri si è tenuta una riunione di coordinamento presso l'autorità di Bacino di Palermo, alla presenza del dirigente Leonardo Santoro e dei funzionari della regione, alla quale hanno partecipato il vice sindaco Leonardo Augello, l'assessore Giuseppe Maria Sgro e la responsabile di Marevivo Mariella Gattuso. Durante l'incontro, afferma il vice sindaco di Ribera, Augello, gli altri comuni destinatari della misura di finanziamento hanno potuto constatare i risultati ottenuti con il progetto Alicos I ed il modello Ribera ha rappresentato un esempio importante da eseguire per garantire il successo dei progetti. La barriera mangiaplastica, commenta l'assessore Sgro, è un'arma fondamentale nella lotta contro l'inquinamento marino. Contribuirà a preservare la bellezza e la biodiversità del nostro mare. Ringrazio il dirigente Santoro, gli amici di Marevivo e Castalia per l'impegno profuso per portare avanti questa iniziativa. Ci impegneremo, dichiara il sindaco Matteo Ruvolo, a promuovere altre azioni di questo tipo per proteggere il nostro prezioso patrimonio naturale.